C'è un esposto che avete presentato in Procura, ma nei confronti di chi? Gli esposti non si dettagliano, si fa l'esposto e la magistratura opera. Lei ha detto che da quando è stato deciso il regolamento degli orari della metropolitana ci sono stati delle interruzioni. Questa pure è una coincidenza, ho detto. Però ha ipotizzato anche che possa esserci un sabotaggio. Secondo me non è una coincidenza. E ha annunciato un esposto, questo lo volevo dire. Esattamente. E così quindi pensa che ci sia un tentativo di sabotare anche questo? Penso di sì.